Come il più classico dei turisti americani a Napoli, sceglie una pizza, la classica pizza margherita e una location suggestiva a due passi dal mare con il Vesuvio sullo sfondo. Bill de Blasio, il sindaco di New York, in vacanza in Italia si ferma così sul lungomare liberato nella mini tappa napoletana del suo tour, prima di partire alla volta di Sant'Agata dei Goti, città che ha dato i Natali ai suoi antenati per ricevere la cittadinanza onoraria. Cordiale, sorridente, De Blasio arriva alla pizzeria Lievito Madre Sorbillo accompagnato dalla moglie Scirli e figli Dante e Chiara e non si nega ai giornalisti che lo intercettano prima di pranzo. Ecco le sue parole. Per questo momento sembra meraviglioso, mi piace molto Napoli, è una città fantastica con tanta energia, a me è un posto che mi amo molto, ma non solo i problemi di Napoli non solo le cose specifiche, ma a me Napoli è un posto meraviglioso. De Blasio parla del lungomare e approva la scelta del sindaco De Magistris di pedonalizzarlo e conferma che incontrerà il suo pari grado napoletano. Cosa anche abbiamo fatto negli Stati Uniti, a New York e altri posti, per creare una città più facile camminare. Tempo nelle storie per meno uso delle macchine, tempo per un cambio. Si incontrerà con il sindaco De Magistris? Sì, questa sera. Per parlare di cosa? Di tutto, perché abbiamo due città molto grandi, lo stesso problema. è importante per i sindaci del mondo lavorare insieme, molto importante.